Siamo con Stefano Medici, presidente regionale del gruppo Giovani Imprenditori CovCommerce Impresi per l'Italia di Pordenone, alle prese con una interessante e originale iniziativa. Martedì 22 luglio, ore 19.30, ex convento di San Francesco, è in programma Aperidee, degustazione di business. Come è nata questa idea innovativa? Ma allora diciamo che Aperidee è una voglia da parte del gruppo Giovani di rispondere ai sentimenti che si provano in questo momento in congiuntura economica, di pessimismo e soprattutto di forte immobilizzazione. Rispondere come? Con qualcosa di innovativo. Personalmente come gruppo ci eravamo un po' stufati dei classici incontri lunghi, con lunghi discorsi, prefazioni eccetera. Abbiamo detto proviamo a fare un evento dove tagliamo tutto e diamo solamente spazio al dialogo diretto tra le persone, tra i giovani e tra le istituzioni. Quali sono gli obiettivi maggiori che vi proponete? Gli obiettivi sono quelli di creare sinergie. Sinergie nel senso più ampio del termine perché visto che l'evento è aperto a tutti che siano giovani, ma soprattutto di mentalità giovane perché ormai l'età nagrafica è sempre molto relativa. Abbiamo detto cerchiamo di fare sinergie tra giovani imprenditori, diamo informazioni agli aspiranti imprenditori e soprattutto invitiamo tutto l'ambito politico a essere presente e dialogare direttamente con i giovani per capire sia le lamentele da un lato, ma soprattutto quali possono essere le proposte per cambiare davvero. Ecco Presidente, ci può illustrare brevemente come si articolerà la serata? Sì, allora la serata è molto semplice, si arriva, c'è una registrazione dove verrà consegnato un badge di tre colori diversi, uno dedicato agli imprenditori, uno dedicato alle istituzioni e l'ultimo per aspiranti imprenditori, professionisti o chiunque decide di partecipare. Quello serve per velocizzare il processo conoscitivo. All'interno della serata appunto attraverso questi badge si stimoleranno con delle cose che vedrete all'interno della serata i giovani a mettersi in gioco da un lato e le istituzioni a rispondere. Quindi questo è un attimino, sfruttiamo il momento conviviale che tendenzialmente davanti a un bicchiere di vino diventa tutto più facile e organizziamo l'aperitivo e la cena con anche l'obiettivo di far conoscere l'assistenza domiciliare pediatrica che sarà presente con uno stand e al quale poi verrà devoluta parte degli incassi.